Ciao ragazzi, benvenuti su Cartisia. Oggi farò vedere come piegare un tovagliolo a forma di girandola. Allora, iniziamo subito. Prendete un tovagliolo di stoffa, lo aprite tutto e portate i lati al centro, tutti i quattro lati. Dopodiché, cosa facciamo? Adesso, portiamo il lato sinistro, metà del lato sinistro al centro e la stessa cosa lo facciamo con il lato destro. Lo portiamo al centro. Ancora piegiamo il tovagliolo, sempre a metà, portiamo il tovagliolo al centro, sia da un lato, dal basso verso l'alto e quindi dall'alto verso il basso. Dopodiché, dobbiamo uscire i lembi che si trovano all'interno, le alette, che troviamo all'interno del tovagliolo. E poi, a questo punto, creare la girandola è semplicissimo. Sollevate la prima parte, la parte di destra, e scendete la parte di sinistra. Et voilà! La vostra girandola è pronta. Spero che questo video vi piace. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!